Prenderà il via sabato 14 febbraio alle ore 14 il Gran Carnevale Carpenedolese. La manifestazione, che quest'anno spegne 57 candeline, vedrà ancora una volta un lungo corteo di carri e gruppi mascherati sfilare nel centro storico della bella cittadina bresciana. Organizzato dalla Proloquo e dall'amministrazione comunale, da alcuni anni rappresenta il punto di riferimento per i carnevali bresciani, ospitando una quarantina di carri allegorici provenienti non solo da Brescia ma anche dalle province limitrofe e attirando un folto pubblico che nelle edizioni precedenti ha superato le 10.000 presenze. Oltre agli appuntamenti tradizionali, tra cui la scalata della cuccagna e il simpatico flash mob rosso, quest'anno la maschera veronese Papà del Gnocco e la sua corte sarà affiancata dalla maschera tradizionale El Shormalfat. Ai nostri microfoni Angelo Marzocchi, presidente della Proloquo, e Tiziano Ziliani, vice sindaco di Carpenedolo, ci parlano di questo evento tanto atteso quanto sentito. La 57esima edizione, un numero importante, un numero grande, come è grande, è diventata questa manifestazione che nel corso degli anni è diventata sempre più importante e sempre più punto di riferimento dei gran carnevali bresciani. Ricordiamo a chi magari ci sente per la prima volta che a Carpenedolo sfilano per circa due chilometri di percorso, oltre 40 fra carri e gruppi mascherati che provengono da tutte le province vicine, Mantua, naturalmente Brescia, Cremona, Bergamo e Verona, con cui abbiamo anche un gemellaggio con una loro maschera tradizionale che è il Gran Papà del Gnocco. Anche quest'anno sarà affiancata dalla nostra maschera tradizionale che abbiamo ripescato dopo un lungo lavoro certosino di ricerca e quindi presenteremo il nostro El Shormalfat e quindi riprendiamo anche uno dei nostri piatti tipici che diventerà sempre più protagonista del nostro paese. Quest'anno a Carpenedolo festeggiamo il 57esimo carnevale. Per noi i carpenedolesi è una manifestazione molto molto sentita, molto molto bella. È uno dei carnevali credo più belli della provincia di Brescia. Per noi questa festa è un avvenimento che facciamo da 57 anni. Io l'ho vissuto da bambino, da ragazzo, da papà, con i miei figli e ho tanti tanti ricordi sul carnevale e quest'anno è la prima volta che lo sento da amministratore. Quindi quest'anno lo sento forse di più degli altri anni perché voglio che, come sono sicuro che accada, tutto vada per il meglio e speriamo che il tempo anche stia su con il sole e che non ci siano le brutte giornate come quelle di adesso.